Sicuramente la sconfitta? Una sconfitta oggi. Mi scudere, mi aspettavo questa sconfitta e questo risultato. Tu pensi che noi aspettassimo la sconfitta? Segui, perci, mi dimentico, non prendiamo la sconfitta e poi sento rumore. Che cosa le devo rispondere? Che aspettavo la sconfitta? E poi sento rumore. Mi scuderebbe la sconfitta e la sconfitta. Allora siete venuti per vincere qua. Mi sembra di poter dire che qualche palla a gol abbiamo creata, un po' più di loro. Però, come al solito, facciamo sempre fatica a fare gol. E quindi poi riduciamo al minimo la prestazione, tutta la mole di lavoro che facciamo. Che è successo da quello che avete previsto prima di iniziare la partita? Beh, ma non mi pare che, non lo so, se voi avete visto un'altra partita diversa da mia. Io ho visto che loro hanno tirato due volte da fuori area e poi non ho visto più, non ho visto situazioni di pericolo. Per cui, cosa vuoi che ti dica? Due tiri in porta da fuori area in tutta la gara, li dobbiamo anche pur concedere. Insomma, non è che siamo... Abbiamo creato tre o quattro palle gol pulite, nitide. Io credo che la prestazione sia buona. Abbiamo giocato tutto il secondo tempo nella metà campo loro senza dare una ripartenza. Penso che sia quello che possiamo fare in questo momento, sapendo i limiti individuali che abbiamo nella fase realizzativa, che ci penalizza tanto. No, non capito, scusi. Ma ciò che le scienze di tifosi non è uguale per tutte e due, quindi non è meglio né per nessuno, non è meglio né peggio. Ma sei qui, si è meglio né paura dicione... Non è meglio né per la squadra, non è meglio né per la squadra. Si è meglio? Non è meglio, non è meglio per la squadra, non è meglio per la squadra. Ma ti voglio di queste inizioni le squadra, non è meglio. Noi abbiamo il dovere di rialzarci dal punto di vista dei risultati, questo te lo ribadisco. Non accetto la critica sul piano della prestazione, quella non si può accettare. Grazie. Grazie. Grazie.